eccoci e bentornati sul mio canale come promesso nuovo video su gta 6 con le notizie e i rumors più importanti del momento vi avevo chiesto 250 mi piace nel video precedente siamo arrivati addirittura 273 quindi per il prossimo video altri 250 mi piace per questo appuntamento settimanale dove vi riporto le notizie e i rumors più interessanti sul prossimo capitolo della rockstar games partiamo subito con la prima notizia il presidente della rockstar games leslie benzis alcune settimane fa aveva rilasciato un'intervista veramente molto interessante dove dava le prime conferme dell'arrivo di gta 6 infatti ha dichiarato che non sappiamo ancora come sarà gta 6 però abbiamo almeno delle idee con questa intervista rilasciata da benzis con develop arriva quindi la conferma che gta 6 potrebbe essere in uno stato di pre produzione con un rilascio che può andare dal 2018 al 2020 la seconda notizia che si sta facendo veramente molto interessante in questa settimana è la riproduzione completa degli stati uniti come mappa giocabile all'interno di gta 6 un qualcosa simile a quello che abbiamo potuto vedere ad esempio nel gioco della ubisoft the crew dove ben sapete che lì praticamente la mappa era completamente esplorabile e ci volevano addirittura un'ora e mezza per passare da alcuni punti delle mappe ad altri quindi in questi giorni si sta facendo veramente molto interessante questo rumors in merito alla riproduzione completa degli stati uniti come mappa giocabile all'interno di gta 6 le altre due notizie che si sono riproposte all'interno di questo periodo natalizio sono la data di rilascio che va dal 2018 al 2020 in considerazione anche del fatto del rilascio delle due console che ancora non sono state annunciate la playstation 5 e l'xbox 2 o l'xbox 2 come le volete chiamare per implementare miglioramenti soprattutto in termini di gameplay e di complessità di texture e grafica e poi si è riprodotto un rumor che poi man mano è andato a scemare dell'ambientazione vi avevo detto precedentemente che in questo periodo natalizio si è sviluppato questo rumor che vuole appunto la riproduzione completa degli stati uniti anche se un rumor di minore importanza vorrebbe qualcosa legato a san fierros e las venturas ma senza ulteriori dichiarazioni rilasciate dai ragazzi della rockstar games quindi queste al momento sono le voci che si sono riproposte più frequentemente in questo periodo di vacanze di natale fatemi sapere qui sotto nei commenti quale vi piace di più di questa indiscrezione di questi rumors arriviamo a 250 mi piace per l'episodio della prossima settimana con tutte le notizie e rumors che ci porteranno a scoprire man mano il prossimo gta 6 e noi ci vediamo con tanti nuovi video video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale